ciao frate e ciao sorella siamo alla ricerca della prefettura siamo alla ricerca della prefettura va tanto qua vi guardate roma questa è zona ostiense t'ho detto tutto e niente mi sono fatto un giro della madonna perché poi con i mezzi a parte che se fossi venuto con la macchina qui mi sarei impicciato in una maniera incredibile per io a sta prefettura mo spero che sia questa poi ti vedo a andare a prefettura ufficio patenti io manco c'ho l'appuntamento per cui potarsi che sto partito così da Valmontone a... aspetta che mi sa che la prefettura capo scusi a prefettura? a prefettura? guarda va avanti che passa a sinistra te vedo grazie mille buona giornata oh l'abbiamo trovato quel palazzo speriamo che me aprono speriamo che me aprono e che dite voi? la fama a fare sto documento o no? ma io non ce credo eh ma mi hanno detto palazzo di vetro qui metto la pattuglia questo che sarà un coso di qualche cosa ma guardate quel punto vedi che favola non so se lo vedete se si vede bene se non si vede sti cavoli qui c'è la macchina da Red Bull la vedete tutta storta guarda ho fatto un giro per arrivare a sta prefettura non ve dico non ve dico e poi non so neanche se riesco a fare quello che devo fare sinceramente io ci sto andando ma sarà aperto su ufficio patenti perché a me serve a me serve il coso come si chiama qui c'ho il foglio vabbè fammi camminare prima che marodino e qui marodino mi tocca stare attenti a camminare che tacciacchino comunque a sufficio già ce l'ho venuto tanti anni fa è un'impresa per trovare sta prefettura guarda è stata un'impresa pure col telefonino certo ma sono andato a cercare col telefonino su internet che cazzo non sapevo dove stava sta prefettura mi sono bello dopo un co due caffè una macchinetta a casa una una al bar della stazione e via ecco il video che ho fatto a Trastevere doveva venire così che non si vedeva nelle mani davanti mentre invece ho messo la telecamera all'incontrario che non si vedeva nelle mani davanti ma questa è una sorta di mezza specie di blog blog io lo chiamo così com'è sentite il rumore dell'aquila forse questa ma forse che mi fanno sto documento pure che lo pago pure che mi chiedono 50 e basta che mi danno sto foglio che mi serve per la patente Università degli Studi di Roma 3 caruccio eh con l'ambiente lì che le case oh apre alle 9.30 e chiude alle 12 allora questo è il can eh questa dovrebbe essere la prefettura dovrebbe essere questa ma non so l'entrata che è stato sta scusa no niente niente non so privata proprietà vediamo se qua qua c'è l'ombra come vedete in ombra ma si vede bene qua la prefettura centro giriamo da st'altra parte in famosa la gente scusate l'entrata per la prefettura sapete dov'è? eh l'entrata per la prefettura ah grazie guardate questi giramenti allora è questa agricola però non c'è scritto prefettura ristorante giapponino allora dovrebbe essere questa la prefettura vabbè guardate là bello io sono arrivato questo è il palazzo speriamo bene speriamo bene ciao raga